Benvenuti, siamo con il professor Dario Ianes, già docente ordinario di pedagogia e didattica dell'inclusione all'Università di Bozzano, corso di laurea in scienze della formazione primaria e cofondatore del Centro Studi Ericsson di Trento, per il quale cura alcune collane, autore di vari articoli e libri e direttore della rivista Dida. Benvenuto professore. Sì, grazie dell'invito. Professor Dario Ianes, recentemente è stato pubblicato il volume Cosa sappiamo dell'inclusione scolastica in Italia? I contributi della ricerca in biblioteca, edito da Ericsson. Partiamo proprio da qui. Cosa sappiamo dell'inclusione scolastica? Allora, questo è un grazie del riferimento perché è un lavoro che è durato alcuni anni, fatto da Rosa Bellacicco e Silvia Dell'Anna, oltre che il sottoscritto, che sono ricercatrici, la prima all'Università di Torino, la seconda all'Università di Bolzano. E' stato fatto un lavoro capillare sulla tutta la letteratura degli ultimi dieci anni, tutta la ricerca pubblicata negli ultimi dieci anni, per rispondere alla domanda. Ma cosa sappiamo davvero con la ricerca, al di là delle buone intenzioni, al di là dei racconti, dell'aneddotica, che può essere positiva o negativa, ma cos'è che sappiamo e potremmo dire legittimamente sulla base di dati che funziona o non funziona? Questo è stato il nostro obiettivo e cosa ne esce? Ne esce innanzitutto una cosa, in Italia si fa troppa poca ricerca seria, troppa poca ricerca seria. Noi abbiamo un'esperienza dalla fine degli anni 70 di integrazione scolastica delle alunie e delle alunie con disabilità e non abbiamo dati, abbiamo pochissimi dati, per andare in un contesto internazionale a dire signori, la cosa qui non solo cerchiamo di farla così, ma cercando di farla così e così facendola produciamo questo tipo di effetti. Ma su questo dopo ci torno un attimo, perché il dibattito tra inclusione sì e inclusione no a livello europeo e mondiale è molto forte. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che i pochi dati che abbiamo ci dimostrano che in effetti i risultati sono positivi, cioè se tu fai integrazione ben fatta e non fuori nello stanzino, come siamo amministrati a dire, se tu la fai bene in classe con la partecipazione dei compagni, con la partecipazione di tutti i docenti, tu ottieni due tipi di risultato positivo. Uno è il risultato positivo sugli apprendimenti e la partecipazione degli alunni e delle alunie con disabilità, ovviamente questo è l'obiettivo principale, ma poi ottieni anche una serie di miglioramenti in termini di capacità comunicative, abilità sociali, capacità di solvere problemi, clima prosociale generale in aula, con tutti gli altri alunni e tutte le altre alunne. In più c'è un terzo effetto, se vogliamo, positivo, che la didattica ordinaria dei curricolari diventa un po' più inclusiva, cioè diventa un po' più flessibile, un po' più differenziabile, differenziata, personalizzata, per cui anche questo è un dato positivo. Ecco, il riferimento, se vuoi, a quelle voci scettiche sull'inclusione, perché io vedo con una certa preoccupazione che a livello europeo si levano sempre più voci che dicono bella cosa l'inclusione, cioè un diritto, una cosa molto nobile dal punto di vista civile, politico, eccetera, però enormemente difficile da raggiungere per una serie di motivi, e alcuni sostengono anche, e questo è un dato che però noi abbiamo sconfermato, anche con delle rassegne di ricerca a livello internazionale, sostengono che se anche tu riesci a raggiungere un certo livello di integrazione, magari di un ragazzino o di una ragazzina, con un alto livello di gravità, cioè i più gravi, diciamo, tu nella classe ordinaria, con i compagni, con gli insegnanti curricolari, poco formati, eccetera, tu di fatto non riesci a dare la migliore risposta possibile, nel senso che magari questa ragazzina così grave avrebbe bisogno di altro, che non di interventi, diciamo, educativi o sulle autonomie molto più basilari, eccetera, che magari non riesci a raggiungere nel contesto normale, chiamiamolo così. E questo è un argomento di quelli che io chiamo l'inclusio scettici, no? Quelli che dicono, guarda, non solo è difficile, può anche essere dannoso in alcuni casi, no? E allora, questo libro qui, cosa sappiamo dell'inclusione in Italia, serve anche a contrastare questo tipo di logica, no? Perché noi ce l'abbiamo l'inclusione in Italia, non è che ne abbiamo metà, nelle scuole speciali metà in inclusione, no? C'abbiamo tutti in inclusione e dunque dovremmo essere in grado di dire sappiamo delle cose per confortare anche paesi che invece si stanno muovendo un po' faticosamente, un po' a un passo avanti, un indietro, no? Nel dibattito, insomma, a poter portare, diciamo, un contributo positivo, ecco. Ecco, voi in particolare promuovete la cultura basata sulla evidence-based, favorendo la dissimilazione di esempi di buoni prassi e indicando alcune prospettive di attuazione. Ci spiega meglio la metodologia EBE e la sua importanza? L'evidence-based education o evidence-based distraction, come vogliamo chiamarla, può avere per noi due accezioni diverse. Perché in medicina, perché tutto nasce dalla medicina, no? Cioè dove tu dici un farmaco lo metto in commercio, se ovviamente ho fatto prima tutta una serie di trial clinici che mi dicono effettivamente funziona, no? Pensiamo alla storia dei vaccini recente, no? Cioè il vaccino arriva quando c'è un'evidenza controllata con estremo rigore scientifico che effettivamente raggiunge gli obiettivi per i quali è stato ideato e sperimentato. Questa è la visione, diciamo, molto dura, no? Dell'evidenza e nasce lì. Cosa vuol dire questo in ambito educativo? Allora, l'ambito educativo vuol dire una prima cosa evidentemente nel dire ma abbiamo delle ricerche che ci danno evidenza che alcuni approcci producono risultati positivi? Faccio un esempio. Tante ricerche ti dicono che una didattica cooperativa, piccolo gruppo cooperativo, eterogeneo, non i bravi da un lato e i scarsi dall'altro, ma eterogeneo, ti produce risultati significativi, significativamente migliori in termini di apprendimento rispetto a un gruppo omogeneo. Ok, questo ti dice l'evidenza, con una certa continuità. Allora a quel punto un dirigente scolastico, un docente, può dire io uso questa cosa perché questa cosa qua ha un'evidenza positiva, mentre non ne uso un'altra che non ha un'evidenza positiva. Un altro esempio, feedback. Anche qui la ricerca ti dice che dare un feedback costante, preciso, sul compito, non sulla persona, cioè un feedback che colpisce tutti i tentativi di apprendimento che una persona fa, questo è una leva efficace per produrre apprendimenti e da un valore di efficacia notevole. Allora a quel punto, se io sono un docente, dico, beh, se questa cosa, se l'evidenza mi dice questo, io cerco di usarlo il più possibile, questa cosa, perché ha un supporto scientifico per dire fare questo produrrà più risultati. Poi, questo è la visione, diciamo, di usare un approccio che abbia un fondamento, diciamo, e non usare quelli che invece non hanno un fondamento. Però c'è un'altra cessione basato sull'evidenza, ed è quello che tu prima citavi come buone prassi, no? Allora, una buona prassi non è un'evidenza, diciamo, sistematica dal punto di vista empirico, no? Cioè non è che puoi dire ho fatto un trial particolarmente controllato perché avevo dieci classi che lavoravano così, dieci classi invece di controllo, ho fatto tutta una serie di analisi. Non hai questa evidenza, però ne hai un'altra. Cioè hai un'evidenza che in quella situazione lì, con quelle persone lì, questa, questa espedienza qui, questa pratica qui ha prodotto di buoni risultati. Dunque, tu puoi dire io informato di questo, cioè perché l'ho colta, diciamo, provo a capire se anche nella mia realtà questa cosa può funzionare. Allora, è una forma di evidenza, diciamo, differente da quella di cui si parlava prima, però è sempre un'evidenza di cui abbiamo grande bisogno, perché quando cerchi di inventare qualcosa, cerchi di guardare quello che hanno fatto gli altri, Cioè per farti venire delle idee, per moltiplicare, no? Poi la tua, anche la tua creatività, la tua, la tua iniziativa. Per cui ecco, basarsi sull'evidenza, io lo vedrei così. Da un lato quello rigoroso del medio, di un approccio scientifico, dall'altro lato quello comunque diffusivo delle pratiche che le persone fanno e che generosamente dovrebbero condividere, dovrebbero lanciare nell'ecosistema formativo e non tenersene strette dentro una propria scuola o addirittura un proprio armadietto. Ecco, quello che lei dice un po' ci conforta perché oggi fare inclusione diventa sempre più difficile. I bisogni educativi speciali sono in crescita e abbracciano aspetti sempre più complessi. Parliamo dagli allunni con deficit fino agli allunni più sdotati. Tenuto conto di questa situazione è ancora valido il modello di inclusione italiano? Allora, se pensiamo al modello di inclusione quello legato solamente alla disabilità per cui certificazione medica ore di sostegno fine scarso coinvolgimento dei curricolari addirittura auletta di sostegno è chiaro che quel modello lì non è non è non è valido per un discorso di inclusione molto più ampio. Il discorso di inclusione molto più ampio vuol dire non occuparsi del 3-4% degli allunni quelli con disabilità vuol dire occuparsi di tutti tutto quello spettro diciamo di differenze che vanno appunto dalla disabilità ma intellettiva grave o gravissima fino alla iperdotazione o plus dotazione particolarmente brillante passando attraverso i DSA piuttosto la migrazione passando attraverso l'infinita varietà delle differenze umane allora non è più pensabile che tu hai un fondamento medico devo certificarti per sostegno l'autonomia della comunicazione o magari luoghi separati per fare delle cose cioè questo non può più funzionare per una visione più ampia dell'inclusione per cui bisogna dire tutti sono corresponsabili tutti devono essere formati devo avere delle competenze tecniche differenziate perché se io ho in classe un ragazzino con una iperdotazione intellettuale io ho bisogno che qualcuno a me curricolare mi dia una mano per poter differenziare la mia didattica non solo per quello che ha disabilità o quei due che hanno DSA ma anche per questo ragazzino che ha una sua caratteristica particolare per cui ho bisogno di una competenza specifica come ce l'ho bisogno se ne ho se ho in classe uno che ha un ipovedente grave cioè le situazioni oppure pensiamo a quello che succede adesso con i problemi comportamentali di disagio psicologico varie forme anche post covid diciamo di problematicità emotivo relazionale eccetera anche lì ho bisogno di competenze ma non di qualcuno lo psicologo che mi porta fuori ragazzino gli fa chissà cosa ma che io curricolare impari a gestirmi le cose in maniera sensibile a quel tipo di disagio di difficoltà per cui diciamo un discorso inclusivo prende dentro di sé sicuramente quella quota di ragazzi di ragazze con disabilità da cui siamo partiti negli anni settanta però via via si allarga il discorso si complessifica e allora tutto il sistema tutto il contesto direbbe Andrea Canevaro diventa competente per questo tipo di moltiplicarsi delle differenze ecco chiediamo con un'ultima domanda lei prima accennava l'importanza di un coinvolgimento di tutto il gruppo docenti l'inclusione è bisogno appunto di un lavoro sinergico sia tra docenti curricolari che docenti di sostegno non sempre è così in molte realtà c'è la tendenza a delegare questa funzione all'insegnante di sostegno allora quali sono i correttivi da adottare visto che la tendenza è quella sempre più di specializzare alcune figure e quasi a delegare poi il lavoro sui ragazzi i soggetti che hanno bisogno questo è un è un male cronico cioè quello della delega diciamo un male cronico del nostro sistema perché è come dire insito stesso alla struttura del sistema perché se io sono il curricolare poco formato io insegno supponiamo matematica alla scuola secondaria di secondo grado di pedagogia didattica non so nulla non so nulla perché ho studiato cinque anni matematica e poi sono stato catapultato nella scuola in una scuola che non mi accompagna dal punto di vista didattico sono da solo e cerco di arrabbattarmi ok allora io sono poco formato cresce il livello di stress e della difficoltà dei miei alunni perché i cambi diventano sempre più complessi come si diceva prima se ho strutturalmente a disposizione un collega di sostegno che è lì perché ho in classe un alluno con la disabilità e la sua presenza il suo stipendio diciamo tra virgolette è incardinato su quello quell'altro quell'altro ancora e non sulla classe come invece il mio a quel punto di strutturalmente sarà altissima la probabilità che io delighi a lui ti dirò tu sei qua per lui il pay te lo fai tu no le altre te lo fai tu perché è il tuo è il tuo ok mentre e questo è l'errore perché è il mio cioè il nostro all'uno no chiaramente allora se c'è questa possibilità non è necessario ma è molto probabile che scatti un meccanismo di telega allora come fare che tipo di correttivi mettere allora un correttivo parziale parziale è quello che diciamo non ci sia più un sostegno a cattedra piena ma ci sia una cattedra mista una cattedra mista che ti dice metà delle ore tu fai lettere metà sostegno già va nella direzione di normalizzare un po' non sei solo la figura di sostegno per quelli con disabilità sei un docente di lettere perché quella è la tua competenza e fai anche ore di sostegno se riuscissimo in qualche maniera distribuire le ore di sostegno dentro il quadro più normale chiamiamolo così tu eviteresti un po' il meccanismo di telega prima cosa seconda cosa i curricolari vanno formati vanno formati perché se io il curricolari ne capisco un po' di più allora capisco che posso anch'io adattare la mia didattica e espellere meno e delegare meno in prospettiva io sono anni che continuo a immaginare e anche a sperimentare che si possa addirittura evolvere radicalmente la figura del sostegno perché se io come sostegno immaginiamoci una scuola una scuola che ne ha 20 insegnanti di sostegno invece di 20 insegnanti di sostegno io ho 19 curricolari che mi fanno con presenza co-teaching co-docenza inclusiva arricchiscono un'offerta formativa e uno supponiamo il ventesimo quello più bravo competente che si è fatta una competenza eccetera quello lì gira per le classi a dare una mano a tutti i colleghi però non solo ai 19 no a tutti perché tutti sono corresponsabili come si diceva prima di un discorso inclusivo allora tu avresti che da un 20 facciamo un numero a caso da un 20 tu ne hai una quota maggioritaria che vanno a diventare curricolari a tutti gli effetti per cui coprogettano realizzano insieme l'attività inclusiva per tutti così il beneficio diciamo è tra l'altro spalmato su tutta la classe e hai una quota di docenti molto competenti ex di sostenio molto competenti ce n'è veramente tantissimi che diventano una figura itinerante non si prendono carico su di sé ragazzino li fanno le cose direttamente ma vanno a dare metodologia a tutti i colleghi questo secondo me è il punto d'arrivo di un discorso evolutivo perché allora accanto all'ex disegnante di sostegno che gira per un certo gruppo di scuole a dare una competenza legata a metodologie inclusive eccetera tu puoi avere anche altre figure il tifologo piuttosto che quello che si occupa della solidità quello che si occupa della comunicazione aumentativa alternativa quello che ne sa molto di autismo per cui viene a spiegare ai colleghi come si fanno gestire ad esempio certe crisi da sovraccarico sensoriale eccetera allora tu hai diciamo attorno alla scuola più potenziata dal punto di vista dei curricolari hai degli ecosistemi diciamo di competenze che vanno a sostenerla allora a quel punto lì non avresti più la struttura che porta alla delega perché non puoi delegare nessuno no? perché siamo tutti coinvolti dentro nel discorso inclusivo grazie professor Janis per essere stato con noi grazie a voi in bocca al lupo grazie a voi grazie a voi